Buongiorno a tutti. Dopo una lunga insistenza e direi ormai in estremis per poterci lavorare, finalmente abbiamo i numeri ufficiali sui quali ragionare. Sto parlando dei dati degli stock assessment, cioè lo stato di salute dei vari stock nei nostri mari. Naturalmente mi sono concentrato sulle acciughe e le sardine, dato che in questi mesi il rapporto sul piano di gestione dell'Adriatico sta passando in Commissione Pesca e credo che sia importantissimo per il futuro del nostro mare. Ci tengo a chiarire che questi sono i numeri dello STECF. Lo STECF è l'organo scientifico e tecnico per le commissioni della pesca ed è il principale organo scientifico di supporto alla Commissione Europea su cui dati vengono poi elaborate le varie politiche comunitarie. Questa non è la mia opinione, non è l'opinione di Marco Fronte, ma è la fotografia dello stato attuale scattata dallo STECF sul quale lavorare. Purtroppo i dati sono pessimi, anche peggiori di quello che potevamo figurarci. Le mortalità delle acciughe sta aumentando ed è attualmente 2,3 volte l'FMSY, quel rapporto che indica il livello di pesca che si può tenere per garantire allo stock di riprodursi correttamente, garantendo quindi anche la sostenibilità. Per questo motivo le catture dovrebbero essere ridotte del 63%. La mortalità delle sardine è cresciuta per un lungo periodo, nonostante la flessione però degli ultimi due anni, la mortalità è ancora tre volte l'FMSY. Lo STECF indica e consiglia quindi di ridurre le catture del 61%. Ripeto, questi sono i consigli dell'organo scientifico e consultivo della Commissione, non è la mia opinione ma sono dei dati che sono lì chiari e precisi. Le prossime tappe del dossier sul piano di gestione dell'Adriatico sono il 25 gennaio 2018 avremo l'audizione in Commissione e la scadenza degli emendamenti, il 26 e 27 febbraio lo scambio di opinioni sugli emendamenti in Commissione Pesca, il 21 e 22 marzo il voto in Commissione e in aprile 2018 il voto in plenaria. Ovviamente vi terremo aggiornati su tutto il percorso e vi aggiorneremo appena abbiamo novità.